Salve, dopo aver guardato le video lezioni sul modello autobiografico creativo, posso dire di essere entrata maggiormente in risonanza con il fatto che anche attraverso il gruppo il mettersi nei panni degli altri e provare a sentire ciò che provano gli altri, ciò che viene messo al primo posto è l'individualità di ciascuno. Mi piace inoltre che al centro dell'intero modello ci siano le relazioni che a mio avviso diventano un veicolo insieme al lavoro creativo per sperimentare le proprie emozioni con cui spesso si fa fatica a dialogare e perciò spesso appunto facciamo fatica ad esprimere. Uno dei lavori che mi ha maggiormente colpito tra quelli che sono stati presentati è stata la creazione del proprio corpo con il materiale modellabile, in quanto secondo me è molto interessante vedere come noi stessi ci percepiamo diversamente da come ci percepiscono gli altri e questo a mio avviso può essere un modo appunto per aprirci a diversi punti di vista. Un altro aspetto che trovo molto interessante è vedere come ogni esperienza seppure individuale venga poi presentata al gruppo, venga condivisa con il gruppo e che a mio avviso è un elemento di crescita, di condivisione, di arricchimento ma permette anche appunto di imparare il rispetto per la diversità e sottolinea appunto l'unicità di ciascun individuo. Per quanto riguarda i possibili contesti applicativi diciamo che di primo impatto mi verrebbe da pensare al contesto aziendale, non mi riferisco però solamente, esclusivamente ai vertici ma proprio a chi ricopre i ruoli da operaio diciamo solitamente e che quindi è chiamato spesso a svolgere ruoli molto statici e quasi meccanici in cui non può metterci del proprio diciamo. Spesso queste situazioni vengono diciamo passano un attimo in secondo piano, quindi sarebbe interessante secondo me vedere come questo modello possa far emergere delle emozioni latenti in queste persone e come in relazione al gruppo, come appunto ci si possa sentire in relazione al gruppo e quali problematiche possano emergere. Un altro contesto applicativo potrebbero essere sicuramente i gruppi di adolescenti in quanto come sappiamo durante l'adolescenza i ragazzi appunto sono molto confusi per quanto riguarda i loro sentimenti, nel manifestare i loro sentimenti e sarebbe perciò utile fare un lavoro che gli permetta di dialogare con se stessi e cercare di tirar fuori ciò che nascondono in maniera più semplice possibile. Per quanto riguarda invece il contributo che il modello autobiografico creativo può dare allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, secondo me questo modello permette non solo di mettersi a contatto con le proprie emozioni e quindi di riconoscerle e saperle manifestare, ma permette anche grazie appunto al gruppo di riconoscere, rispettare e empatizzare le emozioni e le situazioni altrui e quindi anche grazie a questo di imparare a gestire e a manifestare le proprie emozioni. Grazie. Grazie.